Una piccola considerazione. Che cosa c'è di più importante della famiglia? Per me niente. È un valore assoluto, meraviglioso. Eppure qualcuno è stato capace di dirmi «Eh, ma i sordi sono importanti». Pure perché senza i sordi con me la mantiene la famiglia. Quando hai una famiglia e ci tieni, i sordi escono a sottoterra. Perché ti attivi, perché fai di tutto. Per garantire loro il benessere. Che sei la famiglia mia. E io me la porto sempre a presso, sempre nel mio cuore. E se proprio la devo associare al denaro, la porto pure in due portafogli. Ma non come si usava un tempo che mettevi le fotografie di tutti quanti, e i figli in due portafogli. Oggi c'è un modo più pratico. Grazie a Moero. Guardate qua. Magia. E sì, perché il portafogli Moero, che tutti conoscete per qualità, per differenza di colori, di materiali, che potete scegliere sul sito moero.it, vi ricorda che potete anche personalizzarlo. Pensate che idea per San Valentino? Mettete il fidanzato, la fidanzata vostra sul Moero? Ma anche il vostro cane, la vostra macchina, l'amante. Insomma, quello che volete. Così oltre ad avere il Moero, che come sempre è il miglior portafogli di tutti i tempi, con la nuovissima chiusura magnetica, il pratico pulsante per portare fino a 5 carte, a cernire per i piccioletti, interno per i soldini, e poi a belle a duro. Lo potete anche personalizzare. E come se non bastasse, usando il codice sconto Melarido10, avete anche il 10% di sconto. Fate presto che San Valentino è vicino. L'amante... Eh, la fidanzata si lamenta. Acquistatelo su Moero.it